buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul canale siamo ancora qui nella nostra fantastica cittadina di springfield siamo a livello 88 quest'oggi sicuramente andremo a livello 89 e magari perché no anche al 90 sarebbe fantastico e andremo avanti con la missioncina disastro in vista parte 4 siamo arrivati come ricompense ci darà salterino della tundra che non so che cacchio di animali sia è tipo cornuto con una sella non lo so che cacchio sia comunque vedremo un po' e so che decorazione quindi non sarà importantissimo abbiamo raggiunto nello scorso episodio l'ultimo personaggio che ci mancava per completare la collezione dei personaggi della sezione film dell'evento insomma sfida dei film e inoltre andremo avanti con un po' di storie singolari come per esempio la montagna di soldi del senior burns e altre tipo il dottor nick capra pal eccetera eccetera allora ragazzi io direi di non perdere altro tempo chiudiamo il nostro libro delle missioni iniziamo a riscuotere abbiamo la passerella di porto calamaro qui l'olandese sfrigolante che ha completato la missione inoltre allora dovremmo aver accumulato esatto due punti passerella che andiamo subito a mettere per ingrandire sempre di più il nostro porto calamaro vedete che bello come sta venendo pieno di negozi di cose poi lo abbellirò magari off screen un po' meglio in modo tale da averlo sempre più alto qui abbiamo completato una missione un altro giorno come tanti ok quindi abbiamo portato avanti e guardate come abbiamo infatti quasi riempito la balla del livello 88 solo con la missione qui abbiamo 6 miliardi di missioni completate vediamo un po' nella miniera e infatti a livello 89 ci arriviamo con il nostro terwilliger a princeton non si tengono corsi di tocco rapido dello schermo ma forse alla barnard si siamo arrivati i simpson vanno in onda dal 1989 ma nessuno raggiungerà mai quel livello per cui festeggiamo il livello 89 ok va bene festeggiamo festeggiamo non so in che modo però festeggiamo allora andiamo avanti con la raccolta vediamo un po' cosa abbiamo qui praticamente sempre missioni completate perché non possono andare tutti quanti i personaggi in miniera e quindi qualcuno dovrà fare delle altre missioni può tornare utile parte 7 completata non so di quanti parti sarà composta questa missione evento anche se fa parte comunque della storia principale però evento nel senso che essendo tra virgolette dell'ultimo livello sarà una parte evento allora andiamo avanti qui cos'altro abbiamo da fare penso niente praticamente niente si ok quindi continuiamo la raccolta e poi vediamo le missioni che abbiamo ancora da ascoltare ascoltatemi bene io non sto simpatico a voi e voi non state simpatici a me a me sei simpatico sei simpatico a tutti qui davvero allora direi che la mia teoria non sta più in piedi comunque abbiamo un finale da girare e ci daremo dentro non riesco a credere che non ti stiamo simpatici fate come se non avessi detto niente non vedo come sia possibile santo cielo sarà più difficile di quanto pensassi beh in teoria sei fatta da solo la fregatura posizioniamo la nostra decorazione abbiamo il nostro animaletto bello che è sbloccato e io direi di metterlo tipo così magari in questa zona qua bella direzione del raggio mortalissimo disastro in vista parte 4 Kent Brockman in diretta dal tappeto rosso della premiere di esabito dello spazio della Polistar Pictures è una grande serata Cresti come ti senti? sono molto fiducioso la maggior parte dei registi avrebbe i nervi e ferro di pelle qual è il tuo segreto? una volta una persona mi ha ispirato a eliminare qualsiasi esitazione e perseguire la mia visione ed è ciò che ho fatto questa ispirazione ti è venuta dal regista sostitutivo che ha rubato un elicottero da milioni di dollari mettendo a segno un'articolata fuga di prigione? l'ispirazione avviene in tante forme ed è esatto come direbbe qualcuno il Dio agisce per vie infiniti ora basta con le domande disastro in vista parte 5 quindi la parte 5 che sarà la parte conclusiva di questo evento ci regalerà monumento di sabio dello spazio decorazione dobbiamo raccogliere un po' di cristallozzi e un po' di missioni ok dovremmo farcela al pelo in tempo per la fine dell'evento ma comunque abbiamo raggiunto questa missione che potremo completare anche dopo l'evento quindi detto questo continuiamo la nostra raccolta giornaliera a livello 90 come avevo pronosticato siamo arrivati quindi Lugash non è impressionato dal livello 90 Lugash non è mai impressionato procedi ed è esattamente quello che farò va bene Lugash io procedo faccio come tu mi hai imposto mi hai ordinato e procedo quindi con la discussione di queste altre missioni finali dell'evento ok una bugia che evento no non sono di nessun evento le missioni sono missioni così giusto per guadagnare un po' di soldini quindi siamo arrivati a livello 90 allora qui abbiamo Cookie Kwon che ci raccoglie del denaro per portare avanti la nostra Springfield Heights andiamo a comprare il grattino che ci porta bene infatti ci da 750 dollari ok quindi abbiamo preso il jackpot quest'oggi vediamo un po' abbiamo solo missioni ok perfetto abbiamo solo missioni da sentire quindi le leggiamo si avvisano i giocatori di Simpson Springfield che la parte dell'ultima scena in cui si menzionava una tassazione per i giocatori di livello alto era una burla e 1000 dollari sono stati restituiti lo sapevo che era tutta una truffa secondo me hanno pubblicato l'aggiornamento del primo aprile in anticipo o in ritardo in che mese siamo? ti devo correggere la fine dei livelli non era affatto una truffa non ce ne saranno più per davvero i giocatori potranno continuare a salire di livello tra virgolette ma in cambio non otterranno nuovi edifici o personaggi quindi in pratica i livelli esistono ancora ma sono dei numeri senza senso? proprio così e per mostrarti la nostra riconoscenza ti doneremo anche un piccolo premio questa è la cosa peggiore che potesse capitare a questo gioco come premio per aver completato i primi 60 livelli e ricevuto un importante monumento dedicato a Omer questa è la cosa migliore che mi sia mai capitato quindi ecco come praticamente cambia da peggiore a migliore posizioniamo il monte Omerest dove lo mettiamo? lo mettiamo qui ok quindi dobbiamo fare nada ok come ringraziamento per averci aiutato a ricostruire la città Omer avrà la sua faccia scolpita per sempre nelle montagne che sovrastano Springfield mitico nessuno pensa al terribile impatto ambientale che potrebbero avere quei lavori? può darsi che la subivano delle specie protette? sa Elisa stavamo pensando di scolpire anche la tua faccia accanto a quella di Omer sul serio? ora che ci penso mi pare di aver letto da qualche parte che gli animali in via d'estinzione adorano vivere sulle montagne adibiti a monumenti sali di livello fino a sbloccare tutta la famiglia attenzione ragazzi questa cosa è molto figa molto molto figa qui c'è una bottiglia non è poi più del tragetto di parecchi secondi fino a Crestland allora i giardini Duff hanno al caso tuo è un parco a tema da costruire ed espandere nella tua città ah ok compra subito il completo reggino a lucerto a perlisa con i giardini Duff attenzione gli avventori potranno ricevere Nani e altra roba Duff ah ottimo 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 quindi preferisci andartene a Crestland sì certo come no tornerai allora ragazzi aspettiamo un attimo perché devo capire bene come funzionerà questa cosa dei giardini Crestland comunque poi vedremo bene allora vediamo un attimino perché stavamo capendo la montagna come funziona qui abbiamo Omer però non mi ci fa cliccare quindi non so come funziona vabbè dai siamo arrivati a livello 90 quindi più andremo avanti più sbloccheremo personaggi per adesso abbiamo Omer vedremo un po' quanto passerà insomma i livelli prima di avere il secondo personaggio volevi vedermi Seymour? proprio così Edna stasera è un impegno vorrei che ti occupassi tu delle punizioni ma stasera è un impegno anch'io il direttore è più in alto dell'insegnante un'altra punizione fai fare birdwatching a Skinner e presiedere la punizione la signorina Capra vediamo la parte 9 dovrebbe essere spero che tu non ti sia dimenticato del Googleplex ora puoi comprare i biglietti per vedere un film tutti gli incassi saranno devoluti in beneficenza ai poveri e bisognosi di Springfield Heights beh bisognosi è un parolone guarda un film al Googleplex quindi abbiamo sbloccato praticamente è la possibilità di vedere un film il progetto del divano è Caffè Blanca durano 3 ore uno ci dà 5 poltroncine l'altro ci dà 5 caffè e so che richiede Springfield Heights parte 6, 7, 8, 9, 10 e così via vedremo un po' cosa ci regaleranno anche se 3 ore per 5 poltroncine mi sembrano un po' eccessive vabbè vedremo un attimino perché nel frattempo qui lo mandiamo perché c'è la missione ragazzi io direi che quindi per questo episodio posso essere tutto abbiamo sbloccato la parte finale ci vediamo in un prossimo video io vi ringrazio per aver seguito in mia compagnia auguro a tutti quanti voi una buonissima serata e ciao a tutti ragazzi